Albos presenta il prodotto del momento davvero innovativo, Beauty Secret, lo slip shape che riduce di 2 cm la silhouette. Paola. È un prodotto non invasivo, è minimale al massimo, riduce il ventre, modella praticamente tutta la parte del fianco e del sedere alzandolo, ha delle cuciture piattissime per cui da mettere sotto gli abiti da sera, sotto gli abiti da cerimonia, sono invisibili. È veramente una bella novità. Ti aspetto! Grazie!